l'altro pacchetto che mi è arrivato da amazon allora andiamo a vedere cosa mi è arrivato qui la batteria di riserva per potency drone perché come batteria questa è quella originale anche l'altra originale ma ha una durata bassa per cui se uno vuole divertirsi un po è meglio avere anche la batteria di riserva e è arrivato il pacchetto e poi ho ordinato un lettore di microcd perché la action cam non ha la possibilità di essere collegata al computer c'è scritto di collegarla a un lettore ma questo costa una fesseria per 5 euro 99 si inserisce la fsd si attacca al computer e si riesce a leggere l'ho provata devo dire va abbastanza bene per adesso ciao